Oltre 300.000 euro messi a disposizione dalla regione e due sole domande arrivate al comune di Pavia nel giro di sei mesi. È il dato sorprendente che emerge analizzando il tema del problema casa in città. Un'autentica piaga, come testimoniato negli ultimi anni da numerosi episodi di cronaca. Sfratti e proteste che hanno sempre tenuto alta l'attenzione sull'emergenza casa. Eppure i fondi messi a disposizione dal bando regionale, attivo dallo scorso mese di dicembre, sono ancora tutti o quasi nelle casse del Mezzabarba, 328.000 euro a fronte degli 8.600.000 complessivi garantiti a 19 comuni lombardi ad alta tensione abitativa. Risorse preziose per tutti gli inquilini in situazione di morosità incolpevole e soggetti quindi a provvedimenti di sfratto. Attivato lo scorso mese di dicembre, il bando è già stato prorogato in due occasioni, a marzo e nei giorni scorsi, presentando domanda al protocollo del comune di Pavia entro il prossimo 30 giugno tutte le famiglie che rientrano nella categoria dell'amorosità incolpevole potranno ottenere fino a un massimo di 8.000 euro per sanare la propria posizione debitoria. Dopodiché l'amministrazione comunale trasmetterà a prefetto e regione Lombardia l'elenco degli inquilini che risulteranno idonei per accedere al contributo. Una piccola boccata d'ossigeno in un momento di assoluta emergenza per il capoluogo che fino ad oggi però non ha prodotto i risultati auspicati.